Sono l'oppa! Dora e Woods devono arrivare alla stella gigante in cima alla montagna delle stelle, così Dora potrà recuperare la sua collana. Gli oggetti non si muovono! Il mio dentino sì! Davvero? Stai attento che lo perdi! Speriamo, così avrò una sorpresa! Villeggiatura movimentata Così dobbiamo andare, Trim? Che le dici di un caffè, Gianni? Un altro segnale! C'è un gizmo che sta facendo confusione!